Il ministro Azzolina ha confermato il via alla maturità in presenza a distanza di due metri e mascherina, solo esame orale massimo un'ora. A Brescia ancora nulla di deciso sull'ospedale da destinare ai malati Covid, alcune ipotesi ma nessuna decisione. Il basket Serie A ha deciso il calendario della prossima stagione, si torna a giocare dal 28 agosto. Sanificare e sterilizzare tutti i vostri ambienti da oggi è diventato un gioco da ragazzi, con Apollo è la sola forza del vapore. Buonasera dal telegiornale, non abbiamo ancora l'ordinanza di Regione Lombardia, avremmo voluto aprire con quella, la stiamo aspettando così come la stanno aspettando del resto tutti i negozianti che lunedì vorrebbero aprire. Un'ordinanza che è condizionata però dall'arrivo e dalla pubblicazione del decreto del governo che ancora non c'è, quindi un ritardo potremmo dire a catena. Quindi chi vuole riaprire forse potrà riaprire lunedì, naturalmente sarà già nelle condizioni, avrà già strutturato la propria attività per farlo. Le linee guida arriveranno e i dettagli, anzi arriveranno nelle prossime ore, nel frattempo andiamo un attimo a fare il punto sulle riaperture. Il post sulla sua pagina Facebook è arrivato ieri sera, poco dopo le 10. Una buona notizia, il Premier Conte ha recepito le linee guida delle Regioni, un passo avanti decisivo e importante per arrivare finalmente lunedì alla riapertura di una serie di attività produttive. E' il Presidente di Regione Lombardia Fontana a comunicare al termine della riunione Stato-Regioni in teleconferenza con il Premier Conte e i Presidenti delle Regioni Italiane l'ok del governo alle proposte messe a punto dalle Regioni per definire parametri comuni. Oggi adotteremo provvedimenti che, aggiunge Fontana, garantiranno la ripartenza in sicurezza di ristoranti, bar, parrucchieri e altre attività in Lombardia e nel resto d'Italia. Tutti lo dovranno fare utilizzando il buon senso e rispettando le regole per garantire la salute pubblica. Quindi questo ancora, dicevamo che non abbiamo le linee generali, possiamo dare quelle generali che si conoscono da qualche ora. Per la riapertura degli esercizi commerciali i clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti. In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messe a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere l'autonomia toccandola la merce. Lo prevede il documento approvato dalle regioni e recepito dal governo contenente le linee guida per la riapertura anche delle attività di vendita al dettaglio. In particolar modo per supermercati e centri commerciali potrà essere rilevata la temperatura corporea impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi. Sarà poi necessario prevedere le regole di accesso in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti. E per le riaperture c'è anche, ci sono anche linee generali per le riaperture delle spiagge che ci fa molto piacere perché perlomeno vorrei dire che è quasi sicuramente insomma un po' in spiaggia andremo quest'anno. Vediamo. Assicurare un distanziamento tra ombrelloni o altri sistemi di ombreggio in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia. Tra le attrezzature di spiaggia, lettini e sedi e sdraio, quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno un metro e mezzo. Inoltre è necessario la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto. È quanto prevede il documento condiviso dalle regioni e recepito dal governo per quel che riguarda la riapertura delle attività balneari e la fruizione della spiaggia dal prossimo 18 maggio. Secondo quanto indicato, il presupposto è quello di predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche ai clienti di altra nazionalità. Si promuove tal proposito l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento, adeguatamente preparato, una sorta di steward di spiaggia, che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare. E poi è necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto, nonché privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco per un periodo di 14 giorni. Potrà essere rilevata la temperatura corporea impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37 gradi e mezzo. Inoltre è da vietare la pratica di attività ludico-sportiva e di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti, mentre gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia, come racchettoni o in acqua, come nuoto, surf o windsurf, kitesurf, possono essere regolarmente praticati nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente per gli sport di squadra sarà necessario aspettare le disposizioni delle istituzioni competenti. Vi dicevo che l'ordinanza di Regione Lombardia non è ancora arrivata, però vi posso dare un paio di anticipazioni. Le prime sono quelle che potranno aprire tutti i negozi e le attività che saranno in grado appunto di rispettare le linee generali che abbiamo visto, poi vedremo nelle prossime ore il dettaglio. Chi non potrà sicuramente invece aprire lunedì saranno le palestre, le piscine e per tutti comunque, negozi e attività, ci sarà l'obbligo di rilevare la temperatura dei dipendenti e dei clienti all'ingresso. Ovviamente come è ormai prassi oltre i 37 gradi e mezzo, non sarà consentito l'accesso né dei clienti né dei dipendenti in azienda. Queste sono due indicazioni che vi posso anticipare e che verranno ufficializzate appunto in serata con il decreto di Regione Lombardia. Ora invece parliamo di maturità perché il Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha confermato che la maturità sarà in presenza, quindi a scuola, due metri di distanza, mascherina, esame orale che durerà al massimo un'ora. La data rimane fissata al 17 giugno e le prove scritte saranno sostituite con colloqui orali della durata massima di un'ora con varie fasi. La conferma è arrivata direttamente dal Ministro dell'Istruzione Azzolina nel corso della presentazione in videoconferenza stampa delle ordinanze definitive sugli esami di Stato del primo e secondo ciclo e sulla valutazione finale delle studentesse degli studenti. In apertura ci sarà la discussione dell'elaborato sulle discipline di indirizzo, ha chiarito Azzolina. La seconda fase sarà dedicata al testo di italiano studiato in classe e poi la terza ai materiali preparati dalla Commissione sull'arresto delle discipline. I commissari saranno tutti interna, ha puntualizzato Azzolina, per poi auspicare che i docenti nell'ambito degli studi su cittadinanza e Costituzione chiedano agli studenti di esprimersi su come hanno vissuto l'esperienza coronavirus, perché saranno maturati tantissimo. È una richiesta, non è un obbligo, ha precisato il Ministro. E ancora, in merito alla valutazione, il Ministro ha detto di aver voluto valorizzare il percorso scolastico. Si partirà da un massimo di 60 crediti per la prova orale e poi un valore di 40 crediti per arrivare a 100, nonché la possibilità di conseguire la lode. In merito all'ordinanza del Ministero dell'Istruzione sulla scuola media, il Ministro Azzolina ha puntualizzato di non aver cambiato idea rispetto a quanto previsto nel decreto di aprile in cui indicava la produzione di un elaborato. Torniamo a parlare dell'ospedale Covid a Brescia. Quello che si dovrebbe fare è quello che ancora è da identificare e ancora c'è da decidere come Brescia si attrezzerà eventualmente per un eventuale possibile, speriamo no, però ondata e di ritorno del coronavirus nella prossima stagione autunnale, quindi da ottobre in poi. Ieri ne abbiamo parlato a Restarte Brescia con uno dei nostri ospiti, con Donatella Albini, delegata del Comune alla Sanità. Il tema dell'ospedale Covid è ancora tutto in piedi. La scala 4 è ferma, di fatto. Io, come è sempre stata la mia posizione molto chiara, sono contraria a fare un ospedale con degenze esclusivamente Covid all'interno del perimetro di un ospedale. Tant'è, e questo lo dice la letteratura internazionale dal punto di vista dell'organizzazione sanitaria, noi a Brescia abbiamo una possibilità di cui si sta discutendo adesso in una cabina di regia dell'ATS, in cui si sta parlando di una ridefinizione della medicina territoriale, cioè la creazione di un modello di stratificazione delle persone affette da Covid, per cui una volta inquadrate dal punto di vista medico-clinico, capire o a domicilio o in una struttura intermedia che non è l'ospedale e non è il pronto soccorso, capendo se sono di bassa, media o alta intensità e quindi capire se possono essere curate a domicilio in un'adegenza di sorveglianza perché non possono fare l'isolamento obbligatorio a casa, oppure se devono essere ricoverate in ospedale. Io non posso farmi trovare impreparata. Tenete conto che comunque queste strutture, diciamo così prefabbricate, non mi viene un altro termine perché non sono un ingegnere, ma ci siamo capite, siamo venti insomma, sono strutture che possono essere messe in piedi. C'è già un progetto in Regione Lombardia ormai da quasi due mesi, nell'arco al massimo di due settimane, quindi io credo che la cosa va fatta subito. Torniamo a lunedì perché con la riapertura dei negozi e in gran parte delle attività, e sarà progressiva da lunedì in poi, ci sarà un'intensificazione dei passaggi della metro e verrà riattivato il servizio di bicimia. Dopo il potenziamento delle corse e degli autobus, Brescia Mobilità ha deciso di adeguare anche quella della metropolitana, oltre alla riattivazione del servizio di bike sharing bicimia. Da lunedì 18 maggio la frequenza della metropolitana verrà incrementata con l'impiego di un maggior numero di treni in contemporanea e passaggi più ravvicinati nella fascia oraria che va dalle 7 alle 19. In caso di necessità, sarà sempre comunque possibile potenziare ulteriormente la frequenza con l'inserimento di ulteriori treni, mentre resta per il momento confermato l'orario di chiusura serale alle 23. A metà della settimana prossima verrà inoltre riattivata bicimia, il servizio di bike sharing che si compone di una flotta di oltre 400 biciclette e 85 postazioni fisse in tutti i quartieri della città e che conta ormai oltre 28.000 abbonati. E per quanto riguarda i trasporti, vi ricordo che sono state prorogate fino al 24 di maggio anche le ZTL, quindi aperte e gratuite, così come sono gratuite le strisce blu nel comune di Brescia. In tema di mobilità, nel decreto rilancio del governo sono previsti fino a 500 euro in bonus per l'acquisto di bici elettriche con pedalata assistita o monopattini o comunque mobilità leggera elettrica. Un contributo fino a 500 euro per l'acquisto di biciclette anche a pedalata assistita di veicoli per la micromobilità elettrica, quali monopattini, overboard e segway o per l'utilizzo di servizi di sharing mobility. E questo, riferisce il ministro dell'infrastruttura e dei trasporti in una nota, il buono mobilità, che potrà coprire fino al 60% della spesa sostenuta per acquistare il mezzo o il servizio. Per agevolare l'utilizzo delle biciclette si modificherà il codice della strada prevedendo la realizzazione di apposite bike lane. Il provvedimento del Ministero dell'Ambiente, di concerto con quella delle infrastrutture e dei trasporti, punta a incentivare forme di trasporto sostenibili che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per l'emergenza Covid-19. Il buono mobilità aspetta i maggiorenni residenti nei comuni di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia, ovvero nei comuni con una popolazione superiore a 50.000 abitanti, e avrà efficacia retroattiva. Potranno infatti beneficiarne quanti, avendone i requisiti, abbiano fatto acquisti a partire dal 4 maggio 2002. Alternativamente alla procedura di rimborso, una volta che l'applicazione sarà operativa entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in gazzetta ufficiale, il buono mobilità potrà essere fruito attraverso un buono spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull'applicazione web. In pratica, gli interessati dovranno indicare sulla piattaforma il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono speso elettronico da consegnare ai fornitori autorizzati, insieme al saldo a proprio carico, per ritirare il bene o godere del servizio individuato. E adesso andiamo sul Garda perché è arrivata la decima bandierina blu per Gardone Riviera. Per la decima volta Gardone Riviera è stata insegnata dalla bandiera blu, riconoscimento internazionale attribuito dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale alle località turistiche balneari che soddisfano tutta una serie di requisiti sotto il profilo ambientale. Il paese gardesano è da dieci anni l'unico comune del lago e della Lombardia a ottenere l'ambito riconoscimento. Oltre alle qualità delle acque, tra i criteri presi in esame ci sono anche la depurazione, la gestione ambientale, la sicurezza, i servizi offerti ai turisti e le attività di educazione ambientale e di informazione. Questo è il risultato di un lavoro di continuo miglioramento che parte dalla prima candidatura del 2010 e che ha consentito di imparare a rispettare tutti gli standard e migliorarli ogni anno. Il primo riconoscimento è stata la bandiera blu del 2011. Sembra ieri, ma sono già passati dieci anni di lavoro, ha detto il consigliere comunale incaricato all'ambiente Stefano Ambrosini. In un momento così difficile per il turismo gardonese e gardesano a causa del Covid-19, la bandiera blu può rappresentare un buon segnale di continuità e miglioramento dei servizi al turista. Per il tuo negozio di abbigliamento sanificare e sterilizzare non sarà mai stato così facile. Chiamate subito, vi daremo tutti i dettagli. Una buona serata anche agli amici sportivi. Basket è in primo piano perché è stato stilato il calendario della prossima stagione. Si comincerà a giocare a basket il 29 di agosto. Definito il calendario della stagione 2020-2021, il basket riparte il 29 agosto con la Supercoppa, alla quale parteciperanno tutte le squadre iscritte al campionato, suddivise in sei gironi da tre. 18 le squadre di Serie A nel prossimo campionato. Final Four in programma il 20 settembre. Il 26 settembre alvia il campionato vero e proprio di Serie A. Non è possibile al momento sapere se si potrà giocare con o senza pubblico. Questo è il comunicato ufficiale della Lega Basket. Al fine di integrare l'organico delle squadre oggi in Serie A, la LBA ha individuato nel basket Torino Reale Mutua la società che ha totalizzato il punteggio più alto nel ranking delle aspiranti società da lei stessa predisposto. Lo stesso strumento sarà utilizzato qualora vi fossero ulteriori necessità di integrazione di organico. Da oggi quindi il basket Torino potrà iniziare il percorso dettagliatamente definito nel regolamento esecutivo della LBA per ottenere l'ammissione alla stessa nei tempi previsti. Per quanto riguarda il calcio invece sapete che la Serie A insomma non ha ancora deciso. Anzi lei ha proposto la data del 13 giugno per ripartire. Il governo di fatto non ha ancora risposto in merito. C'è un problema sul protocollo per quanto riguarda i giocatori. Ad esempio nel ritiro le società hanno detto anche no. Grazie con questo protocollo è impossibile far fronte ai ritiri. È stata l'Inter la prima squadra a dire no al ritiro ipotizzato come formula per la ripresa del campionato. 15 giorni di isolamento della squadra per allenarsi in totale sicurezza in vista della ripresa del campionato fissata dalla Lega Calcio per il 13 giugno. La protesta interessa altri nove club di Serie A compreso il Brescia Calcio. Le altre sono Napoli, Milan con alcuni distinguo, Cagliari, Verona, Atalanta, Sassuolo, Fiorentina, Sampdoria e Genoa. Il rifiuto è dettato dal protocollo sanitario studiato dal comitato scientifico del ministero in collaborazione con la FIGC. Secondo la società, a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero troppe lacune sugli allenamenti collettivi e troppe difficoltà logistiche. Tra questi il nodo della clausura in hotel per quanto riguarda il ritiro precampionato. Un documento considerato inapplicabile, che se non sarà rivisto, porterebbe al rifiuto di molti giocatori a recarsi in ritiro. Per fare un esempio sulla questione dell'hotel, le società fanno riferimento a come i calciatori e lo staff tecnico saranno comunque a contatto con camerieri e personale della struttura, con quest'ultimi che, uscendo e tornando a casa dopo il turno di lavoro, non possono essere controllati. Di fatto, verrebbe rotta la campana di vetro alla quale la squadra deve sottostare. Quindi vedremo come andrà a finire, in attesa appunto anche di quanto deciderà il governo in merito a come procedere. Ci fermiamo qui con il telegiornale. Vi ricordo che le notizie continuano ad aggiornarsi sul nostro sito internet, livebrescia.tv, sul quale trovate anche il canale 16197 del nostro digitale terrestre in streaming, che potete seguire quindi tranquillamente direttamente dal vostro smartphone, tablet oppure pc. Se volete ricevere le notizie direttamente sul vostro smartphone, allora iscrivetevi ai nostri canali Telegram e Live Brescia News e Live Brescia Sport. Grazie a tutti per essere stati con noi. A voi l'augurio di una buona serata e buon sabato sera. Grazie a tutti.